Poiché erano pescatori, e disse loro, seguitevi, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito, lasciati gli aventi, lo seguivano. Andando, le prevede anche i due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni il suo fratello, che nella barca, insieme con Zebedeo il loro padre, riassertavano gli aventi e gli chiamò. Ed essi subito, lasciati alla barca il padre, lo seguirono.